che cosa appena succede no 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 come che si faceva corri corri ok va bene a posto non doveva andare così ma letteralmente non doveva andare così corri corri ok a posto dio mio perché si è buggato mai a posto ok buongiorno tutti amico benvenuti nel combattimento più sì però non si può così dai aspetta hai che prendo la spada sì no dai pagato pagato posto se muori poi voi morite io stavo dicendo dobbiamo fare un combattimento contro dei mostri nuovi però pare che qua ce ne sono un po troppi muori a posto ok allora prendiamoci tutto dai già l'inventario intasato ma porco spifo mettiamoci questo questo oggi andremo a combattere contro dei mostri non a norma dei mostri illegali ragazzi sono illegali questi mostri ve lo dico io perché iniziamo dal primo allora prima cosa che vuoi vi ho detto questi mostri sono veramente enormi sono pericolosissimi e andiamo al video ecco il primo eh oh mio dio beh questo mi tira le frecce qua ci muoio non è vero non è vero signore oh è forte perché non ho preso l'arco innaccia innaccia mi ha dato questo è forte raga questo è forte mi date le lance dai no 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 se riesco ad arrivare no non è potente sì ragazzi raga no 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 Io sto spammando dai 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 vai che è morto quanta vita ha oh eh pad Давайте ho potente questo se riesco prendo l'arco vai così ok è avvelinato è avvelinato spero che in qualche modo riesca a morire dai forza dai che il primo ancora si è ringraziato al cielo è morto che bello è morto è morto è morto allora andiamo col secondo questo qua è un scherzo è velocissimo però è morto va bene non allora ve lo mostro un po così lo vedete guarda che movimenti tutto così si salta è così molleggioso e te muori vieni a posto allora andiamo con l'altro Che elettro king Cosino L'avete visto tutti come ragazzi Cioè sono tipo mezzanotte Non è uguale Raga non mi chiedete perché registro Non me lo chiedete Lo vedete come Raga Guardate come cammina Ah lui si protegge Oh mio dio Guardate Allora forse qualcuno di loro Potremmo tenercelo come amico Quindi poi non so Che bello è questo Guardate ha una lancia Tutto Tutto umano Il finale sarà qualcosa di Per ora sta andando tutto Bene Non me l'aspettavo Ok Allora Me l'adoro Perché adesso iniziamo con quelli forti ragazzi Ora iniziamo con quelli brutti Ecco Che braccia Che braccia ragazzi Fidata Meno male è che io ho tipo Aspetto di fuoco Così almeno No Ti prego no Ti prego no Ti prego no 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 Ora le mie cose Dov'è Dov'è Adesso È di là È di là Sopportate Questo video Ragazzi Lasciate un mi piace Mi raccomando Un mi piace enorme Come cavallo si è mosso Ragazzi avete visto Dai forza Forza La spada La spada Dio so per morire ragazzi La spada La spada No Esplosa la spada Esploso tutto Ragazzi Devo chiamare il mago Va bene L'ucciderò io Con le mie mani Ti ucciderò io Kill A posto È morto È morto Che è morto Va bene Va bene Chiamo il mago Così mi rimette tutto Che sennò qua C'è Cioè moriamo Ok A posto Allora Mago Quanto ci metti Ok Grazie mago Ti ringrazio Con tutto Il cuore Però Non è vero Perché hanno mi dato Le mere Inciantate Eh lo so Lo so Oh Ragazzi A posto Vedete il mago Quanto è bravo Mi ha pure dato Il totem Della non morte Andiamo con il prossimo Questo qua Lo spaviamo qui dentro Perché è impossibile Ecco a voi Il male Danger Si muove ogni tanto Quando mi vede Però è semplice Da uccidere Vedete Amore Guardate le asce Che belle Le asce Oh mio dio Ma è bellissimo Vai colpo secco Colpo secco Mangia 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 L'amero Uno smeraldo Oh bene bene Non volevo Arrivare a molto Ok Eh Andiamo con l'arco Ecco Oh Mio Io Ma Non se la piglia con noi Non è cattivo contro di noi Allora niente Io pensavo Chissà che cosa Dai Vai Avete visto con golem enorme Dai Muori Ben Quasi tutti i blocchi di minecraft Alla terra Alla pietra E alla zucca Il fiorellino Beh Io Puglio questa testa E me ne vado Esploso Va bene Va bene Aiuto Allora Mi fa Lì Guardi Bella Melinda Vai 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 Morite Venite Da me Fate gli uccidere Babani Tipo col petto fuori Sembra tipo Mio Sembra tipo Villager di mene Oppure Quelli di video Che ti dico Sono americani Sono Sono morto No E si è rotto Oh mio dio No È orribile Vabbè Aiuto Ci sono troppi Tipo 4 Però qua non Me li compro E là Le lumi Da Aiuto No Perché poi Sembra un Rincretinito Di quelli Brutti Aiuto Ah ma ci sono Quelli vestiti Pure E allora Niente Ecco il primo Noto Una sorta di arena È questa Sì però Sì però Sì però Sì però È calmo Un po' Non c'è Sì La melinda Ragazzi Mela al giorno Toglie Villager Cacchi di torno Non è più Una parmigiana Al giorno Toglie la nonna Intorno Ragazzi Mi raccomando Emo c'è pure Questo Che vuoi Io ho ucciso Delle persone Molto più grandi Di voi I bambini Della Pampers Pampini Pamp Persì Va bene Va bene Se vi è piaciuto Lasciate un piace Propositato Di villager Ma io Ho il bestione Ragazzi Ti ha rotto qualcosa Della mia armatura Chi se ne frega Dio Mostro Mostro E sono morto Non è possibile Va bene Spero che Questo Dove sta Eccoli Eccoli Brutti Ceffi Prezzemoli No Ma Ma tolgono Un sacco Qua nonna Armatura Ti picchio Ti picchio Ti picchio Per come la vita No No E io Il coso Il coso Il coso Il coso Il coso Il coso Ma quanti minuti siamo? 15 Dura poco Vai il coso Vai coso Io ho un altro coso Ma vai andate così Uccideteli Ne è rimasto uno Che carini Beh Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Io da Questi cosi enormi E noi ci vediamo Ad un prossimo video Spero che vi sia piaciuto Perché sul serio Per fare questo video Ho dovuto Combattere Contro dei Mostri enormi Guardate Guardate che bello Eh non è sexy Va bene La devo smettere Di dire cavolate Quindi mi butto Nella mischia E noi ci vediamo Ad un prossimo video Su ragazzi La devo smettere